Siamo a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, per la presentazione di Un talento per la scarpa, il concorso internazionale dedicato ai giovani stilisti promossi da San Mauro Industria. Dopo due anni oltreoceano, il titolo di migliore promessa della calzatura è tornato in Italia. Ad aggiudicarsi la diciannovesima edizione, infatti, per i giovani stilisti è Edoardo Battellini di Gubbio, che ha realizzato il migliore lavoro sul tema Urban Chic, la décolleté rompe nello street style. Il suo elaborato è stato giudicato il numero uno su 124 partecipanti da tutto il mondo. La serata di premiazione, venerdì 14 giugno alle 21 a Villa Torlonia. Nell'eccellenza del distretto calciaturiero di San Mauro Pascoli viene organizzato per il diciannovesimo anno Un talento per la scarpa, un concorso dedicato ai giovani stilisti. Ma sì, quando abbiamo costituito San Mauro Industria, ormai vent'anni fa insomma, abbiamo subito pensato a una serie di iniziative che fossero collegate a quello che abbiamo definito, forse un po' pomposamente, Genius Loci San Maurese e abbiamo pensato che c'erano due fondamentali elementi che caratterizzavano la nostra comunità. Da un lato la cultura economica, ma non solo economica, della scarpa, dall'altro la cultura della poesia di Giovanni Pascoli. E quindi abbiamo costituito due premi, uno dedicato a Giovanni Pascoli, uno alla scarpa. Ma la scarpa qual era la cosa più utile, in qualche modo necessaria? Era proprio cercare un concorso, un premio dedicato ai giovani talenti nel campo dello stile, che è un po' lo stile, è uno degli elementi della scarpa da donna San Maurese. E quindi abbiamo costituito, fondato questo concorso, che ha avuto, devo dire, un grande successo. Devo anche aggiungere, non tanto perché in SEF io abbia avuto una gran idea, insomma, l'idea era lì nelle cose, ma il successo di questo concorso è dovuto al fatto che è promosso da un bacino di qualità ed eccellenza. Per qualsiasi giovane è importante venire qua e misurarsi, confrontarsi e magari imparare qualcosa, date le caratteristiche del premio, nella cultura della scarpa san maurese. Ecco, in un mondo sempre più globalizzato, compreso anche il settore della moda, è difficile mantenere questa eccellenza della quasi sartoriale, no? Della distretto calciatoriero romagnolo. Ma sì, la difficoltà è costante, continua e la testimoniano anche i nostri imprenditori, che l'hanno fondata proprio su questo, sull'innovazione, alla ricerca e alla qualità. Devo dire anche, non secondaria, anche la tradizione san maurese. Qui cosa si combina? Si combina da un lato il saper fare, quelli che chiamano l'inglese lo chiamano know-how, no? Il saper fare da un lato e dall'altro anche l'innovazione, la ricerca, la capacità di inventare, la creatività, l'artigianato arte, ecco. E quindi bisogna competere, visto che soprattutto con il mondo globale, con grandissime aziende, le dimensioni delle nostre aziende non sono enormi, sono consistenti ma non enormi, anche perché insomma mantengono una natura artigianale, artistica, e quindi la sfida è assolutamente, come posso dire, uso un termine come totale, ecco. E quindi sempre più difficile. Noi col nostro concorso ovviamente pensiamo di dare un piccolissimo contributo, molto piccolo, mettere un piccolissimo mattone alla difesa, all'affermazione del nostro modello calzaturiero. Appuntamento allora venerdì 14 giugno alle 21 a Villa Torlonna per questa premiazione. Sì, dunque, saremo qui, saremo qui alla torre, oppure come viene definita adesso, io la chiamo torre perché Pasquale la chiamava così, ma insomma adesso viene definita Villa Torlonna e saremo qui dentro all'interno nel nuovo spazio teatrale appena inaugurato e ci saranno i premiati, ci saranno molti giovani, ci saranno anche spettacoli di danza, la danza è collegata alla carpa, quindi non mancate perché insomma bisogna assolutamente esserci. Che cosa mette in palio questo concorso? Questo concorso è finalizzato a far crescere dei giovani talenti e perciò mette in palio una parte formativa che si realizza presso il CERCA, al Centro di CERCA e Scuola Internazionale Calzaturiera che è la scuola del distretto, la Shus Academy del nostro distretto calzaturiero, più uno stage di sei mesi in una delle aziende aderenti a San Mauro Industria. Il concorso ha l'obiettivo di individuare dei ragazzi e ragazze meritevoli di sviluppare il proprio talento creativo e di farlo crescere per poi un inserimento nel mondo del lavoro in questo settore. Oltre 150 partecipanti da tutto il mondo è una manifestazione che attrae sempre tanta attenzione? Sì, abbiamo possibilità di fare promozione a livello internazionale e tutti gli anni abbiamo anche una discreta quota di ragazzi che partecipano dall'estero. Il vincitore è tornato in Italia, dopo anni di vincitori invece che arrivavano dall'estero segno anche che il distretto calzaturiero romagnolo, oltre al Made in Italy italiano, tira. È vero, abbiamo un vincitore italiano quest'anno, un giovanissimo, classe 2000, che viene da Guglio, ma nella rosa dei dieci segnalati abbiamo diversi ragazzi anche dal territorio e anche alcuni ragazzi dall'estero, dalla Spagna, dal Messico per esempio, per cui si conferma ancora questa vocazione internazionale del nostro concorso. Ecco, diciannovesima edizione, che ruolo ha San Mauro Pascoli nel panorama internazionale della moda legata alle calzature? San Mauro Pascoli è un distretto di nicchia altamente riconosciuto per la capacità di fare una calzatura di alta qualità e con un grande contenuto stilistico e il motivo anche per cui questo concorso attira è perché abbiamo dei grandi brand che lo promuovono e vuole anche questo essere una testimonianza della vicinanza delle aziende alla trasmissione di un know-how e di una capacità di lavorare bene in questo settore. Questa diciannovesima edizione del premio Un talento per la scarpa va a un giovane italiano, Edoardo Battellini di Gubbio. Che cosa vi ha convinto di più del suo progetto? Beh, sicuramente la grafica, l'idea progettuale è molto molto completa, molto fantasiosa, molto variegata. Questo concorso prevede di premiare i talenti e i talenti per noi sono coloro che hanno una capacità naturale di esprimere la creatività e la sperimentazione sulla calzatura. Sono arrivati tanti progetti, tanti disegni, ce ne sono stati alcuni più curiosi di altri? Beh, ci sono stati, sì, c'è stato per esempio il terzo arrivato che dal Messico ha inviato una marea di disegni, compreso un piccolo pop-up, questi come i libri, quelli che si aprono, con la rappresentazione di una città invasa dai graffiti. Quindi diciamo che chi partecipa a questo concorso spesso si impegna veramente tantissimo e è un peccato non premiarli tutti, insomma, perché effettivamente dedicano molta molta attenzione a questo concorso. Quali sono le nuove tendenze per quanto riguarda la moda nelle calzature? Dunque, la calzatura adesso è stata invasa in questi ultimi anni dalla presenza appunto delle sneaker, quindi la sneaker è stata quella che l'ha fatta un po' da padrone, però si sente un po' la, c'è la sensazione di un ritorno alla femminilità nella calzatura da donna ma anche nell'uomo nella calzatura più normale. Diciamo che il cliente è sempre esigente, capriccioso, quindi non appena è arrivata un prodotto si è consolidato, già subito si vuole cambiare. E' stato proprio anche questo che ci ha fatto pensare a questo tema, cioè urban chic, la décolleté rompe nell'urbano, perché questa invasione di sneaker ci ha portato a riflettere invece sulla calzatura ben fatta, elegante e abbiamo proposto questo ai ragazzi. Grazie a tutti.